Sono saliti a 219 a fine giornata di ieri i controlli effettuati dagli agenti provinciali di Perugia in occasione della preapertura della caccia. Le 14 pattuglie della Polizia Provinciale hanno presidiato il territorio ripartito in otto comprensori, levando un evidente calo di doppiette, come già si era percepito nella prima parte della giornata. I dati definitivi resi noti al momento della chiusura parlano anche di 14 sanzioni amministrative applicate dalla stessa Polizia Provinciale, dovute prevalentemente alla mancata osservanza delle distanze di sicurezza e al mancato rispetto delle regole nella realizzazione dei capanni. Si ricorda che il calendario venatorio prevede altre due giornate di preapertura nelle domeniche di 6 e 13 settembre, nelle quali l'orario consentito sarà fino alle ore 13, mentre l'apertura generale a tutte le specie è fissata la terza domenica di settembre, il 20 ad esclusione degli ungulati durante tutto il periodo venatorio la centrale operativa della Polizia Provinciale sarà a disposizione 24 ore su 24. Intanto nella zona di San Donato di Valfabbrica un cacciatore di 67 anni è morto per un infarto, l'uomo si è sentito male durante la battuta in un punto molto scosceso. I vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo dopo l'autorizzazione del magistrato di turno, i carabinieri, i pompieri sono intervenuti con cinque uomini, due mezzi più un terzo attrezzo per il soccorso alpino fluviale ed hanno recuperato la salma che è stata riconsegnata ai familiari.